L'Almanacco della Fede Di Padre Livio Oggi cari amici vorrei Fissare il nostro pensiero Come pensiero spirituale Che apre la giornata Su quei mezzi Che il Vangelo E anche la Regia della Pace Ci suggerisce Nella lotta contro Satana E' un tema di grande importanza Anche perché Prima di tutto la presenza di Satana E' una presenza Molto viva Reale E' proprio A come certa Proprio dei Vangeli Appena Cristo è venuto Satana si è Si è allarmato In come ha detto La sua guerra Contro Cristo E contro la Chiesa Fino ad oggi E quindi Cristo stesso Ha affrontato Satana Prima ancora di iniziare La sua vita pubblica E così Anche noi Dobbiamo addestrarci Nel corso della storia In questa battaglia Specialmente In questo tempo Perché questo è un tempo In cui Satana E' sciolto dalle catene E' il tempo dell'Apocalisse E' il tempo In cui è sciolto dalle catene Salvo quella parte Che è fra Un combattimento E l'altro Dell'Apocalisse Sono due E' il primo Quello che stiamo vivendo ora Poi ci sarà un tempo di pace In cui Satana Diciamo Avrà perso La sua capacità La sua porza La sua potenza In quanto appunto E' stato Scacciato Dall'innumerevoli cuori Proprio nel tempo dei segreti E poi c'è l'attacco finale Che sappiamo Quando Satana Tenterà l'ultima scalata Al cielo E invece Verrà Cristo Dalla gloria Del cielo E Verrà rinchiuso Per sempre Nell'inferno eterno Quindi oggi In questo tempo Noi In tempo In cui fra l'altro Diciamo La Chiesa Ha dovuto ribadire Questa verità Di fede Di fede divina Rivelata Dalla parola di Dio Rivelata dai Vangeli Della presenza Di Satana Nel corso Della storia umana Però Diciamo Che Si sono trovati Tanti modi Per Indebolire La presenza Per Identificarli Con qualcosa Di astratto Come un simbolo Protagonista Perché Qui Per schiacciare la testa Alla serbia infernale Che la Madonna Qui presente Nella passione Di Meggiugorie Da quasi 43 anni Allora Dobbiamo avere La consapevolezza Della presenza Di Satana Della sua pericolosità E anche dei mezzi Che Il Vangelo Ci mette in mano E si esolta a usare Per Per Affrontarlo E per vincerlo Ovviamente Non con la nostra forza Ma con la forza Di Dio Allora Come vi dicevo In modo particolare La presenza Di Satana Noi la vediamo Nei messaggi Di Meggiugorie Perché Lì La Madonna Ci svela Il progetto Di Satana Che lui Con le nostre menti Neanche avremmo mai Potuto immaginare E mai avremmo potuto Immaginare Perché Come dire Chi poteva pensare Agli ammonimenti Che ci ha fatto la Madonna Più volte Quando ho detto Che Satana A modificare Le nostre vite E il pianeta Su quale viviamo E quindi Che nel suo obiettivo C'è proprio La distruzione Del mondo C'è proprio La catastrofe E quindi Il pianeta Il pianeta Sul quale camminiamo Sul quale camminato Ha detto la Madonna E poi Anche Le altre espressioni Che riguardano Invece La sorte Delle anime Quando la Madonna Meggiugorie Ha detto Ripetendo Fatima Che oggi Molti anime Vanno all'inferno Poi Un'altra espressione Della Madonna È molto Molto Allarmata Appunto Che oggi Satana Mietta le anime Allora Prima di tutto Ci vuole la consapevolezza Della presenza Del tentatore E poi Bisogna accogliere La natura Cioè Satana È Come dice Il catechismo Per odio Contro Dio Tenta l'uomo Al male Quindi Come dice Il Vangelo Come dice Il Vangelo Il principe Di questo mondo È Menzognero E omicida Fin dall'inizio E noi lo vediamo All'opera Già Nella prima tentazione Con Fonte dei progenitori La sua astuzia La sua menzogna Cioè È Proprio una serbia Che si avvicina Ti incanta E poi ti morsica E ti uccide E La sua astuzia Che era Il suo strumento di battaglia Che è la tentazione Che è la seduzione Consiste Di presentarti Dio sotto forma Sotto una forma negativa E di presentarti Il male Colorato di bene Come dice Caterina da Siena E con questo Ti inganna Perché l'uomo La sua natura Aspira al bene E quindi Non avendo Il discernimento È come dire Sceglie Ciò che lui Crede un bene In realtà Un male E quindi Ripaga le conseguenze E cioè La morte E questo Lo vediamo appunto Nella prima tentazione Che poi È una Come si dice È un archetipo Che riguarda Un po' Tutta la storia Dell'umanità Perfino il nostro tempo Che è un tempo Nel quale L'uomo Si ribella A Dio E segue Il demonio Che gli presenta Il miraggio Del potere assoluto Del potere Dell'uomo Al posto di Dio Quindi Cari amici Così Noi Nella nostra vita Personale Dobbiamo scoprire Il demonio Che Che Cerca Per prima Cosa Di indurci Al male E di Portarci Sulla via Diciamo Larga E spaziosa Che attira Che seduce Che è quella Del mondo Delle sue Prospettive Dei suoi falsi beni Delle sue Falsi luci E ci Attira Lunga Quella via Ci Come dire Ci Ci dà Quel cibo Che è un veleno Che distrugge La nostra anima Che ci fa Diventare Cattivi Ci fa Diventare Perversi Ci trasforma Sua immagine E così Fino a portarci Alla morte Questa dunque Diciamo L'attività Di satana Nella nostra vita E non c'è nessuno Che riesce a sottrarsi L'attività di satana Cioè Arriva a tutti Arriva a tutti Cioè Anche A parte il fatto Che i demoni Sono molti Ma non c'è nessuno Che non Non abbia a fare Col diavolo Nella sua vita Anche poi Se non se ne accorge Anche perché Il principe di questo mondo Ha molti Angeli Pervertiti A suo Servizio Secondo l'Apocalisse Sarebbe un terzo Degli angeli del cielo Che è caduto A suo seguito A seguito di satana Quindi Ha innumerevoli Angeli Pervertiti Cioè demoni A suo servizio E poi Per le anime Più importanti Si occupa lui Personalmente Come lui Personalmente Attacca Gesù Cristo Nell'Evangelo E come lui Personalmente È in campo Contro la regina Della pace Meggiugorie Infatti La Madonna Non parla di Diavoli al plurale Nei messaggi Dei Meggiugorie Parla sempre Di satana Cioè È proprio un confronto Fra lei E satana E Fra lei E il drago Quindi È perché È entrato in campo Lui stesso Per permissione divina Questo vuol dire Sciolto dalle catene Per permissione divina È entrato in campo Lui stesso Per portare L'umanità La distruzione E portare La chiesa A quello che Le profezie ci dicono O i cristiani Che fuggono E tradiscono O quelli invece Che poi Affrontano E subiscono Il martirio Odio che Satana Già Gesù Cristo Ci ha tranquillizzato Fin dall'inizio Cioè che Satana E le porte Dell'inferno Sono Satana Le porte Dell'inferno Contro la chiesa Non prevarranno Quindi c'è questa sicurezza Però lui Lui si illude Di riuscirci Si illude Di ottenere I suoi risultati Perché Il suo algorio Lo acceca E tenta La rivincita La rivincita Alla sconfitta Che ha subito Da parte di Cristo Sulla croce Allora Questa è Diciamo così A livello personale E a livello collettivo A livello delle nazioni Dei popoli E la tattica di Satana Cioè La seduzione E presentare Il male Sotto forma di bene Cioè presentare Per essere globali Diciamo così L'uomo L'umanità Al posto di Dio Come se fosse Una grande conquista Una emancipazione Una liberazione Un'era nuova Questa è la grande seduzione Del mondo contemporaneo Poi ci sono Le seduzioni Delle persone Dove Satana Le attira Le seduce A seconda Delle loro fami Delle loro desideri Ovviamente C'è chi Chi aspira A successo Chi aspira Al denaro Chi aspira A avere Altre cose Insomma Le bocche Affamate Dei visti capitali Hanno da parte Di Satana Sempre il cibo Necessario Per soddisfarle E così Portarci In catene Nella sua schiavitù Ora Cari amici Quello che mi interessava Adesso Spiegare E per quale motivo Nella lotta Contro Satana È necessaria È necessaria La preghiera È la rinuncia Per rinuncia Intendo qualcosa Di più importante Per il digiuno Perché il digiuno È una rinuncia Circoscritta E diciamo Al cibo La rinuncia È qualcosa Di più vasto E cioè La rinuncia È già Un dire No A tutto ciò Che Satana Ti offre E con quale Vi distrugge Metto la Madonna Ce la metto Che Satana Vi distrugge Con quello Che vi offre Perché allora È così importante Nel combattimento Spirituale Sia la preghiera Sia il digiuno O meglio La rinuncia Così come ci ha Mostrato Gesù nel deserto Prima di tutto È necessaria La preghiera Per quale motivo Perché cari amici La natura umana È debole Noi Nella nostra debolezza Non abbiamo La forza Di affrontare Il diavolo È più intelligente Di noi È più forte Di noi È più perverso Di noi Anche la sua natura Che è Un purissimo spirito Benché Benché Pervertito Però fa sì Che sia Lungamente Ampiamente Superiore Sia la nostra Intelligenza Sia la nostra volontà Quindi Da soli Noi possiamo Lottare contro il demonio Di qui la preghiera Cioè noi Per lottare contro Satana Abbiamo bisogno Dalla forza di Dio Dalla potenza di Dio La forza di Dio E la potenza di Dio Ci viene dalla preghiera Quindi È per quello Che la Madonna Anche per quanto riguarda La nostra vita personale Cioè La tentazione Come la metto Ha invitato Gesù Ai tre apostoli Nel Getsemani Cioè Era il momento Della grande tentazione Quello Era l'ora delle tenebre E Gesù Ha detto I tre apostoli Pietro, Giacomo e Giovanni Cos'ha detto Ha detto Pregate E vigilate Per non cadere In tentazione Questo l'ha detto A Pietro A tutti i suoi apostoli Non c'è solo Che sia esente Della tentazione Del diavolo Anzi Quelli che hanno più Responsabilità Nella Chiesa Specialmente i sacerdoti Sono i più vessati E i più tentati Dal diavolo Perché il diavolo sa Che Che riuscendo a coinvolgere Un sacerdote O più sacerdoti Ha una Ha una Un bottino di fedeli Molto più ampio Quindi C'è questa C'è questa Prospettiva Ben precisa Della preghiera Perché Senza la forza Di Dio Non possiamo Vincere la tentazione Né quella personale Né quella globale E per quello Che la Madonna Ci invita Costantemente Noi lo vediamo anche In tutto il corso Della sua presenza A Medjugorje Quante volte La Madonna Ci ha invitato A pregare Perché è stata Ma è forte L'ha fatto anche Nel 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 messaggio Di aprile No Pregate come Perché è stata Ma è forte E poi fa anche Fa anche Una sottolineatura Della sua forza Che cresce Continuamente Perché Ci sono Tante persone Che aderiscono a lui E quindi Lo rendono ancora Più forte E stendono Il suo regno Quindi Senza preghiera Non si può Lottare contro Il maligno Nella preghiera Noi diventiamo Figli Che superichero Non la grazia Non la grazia Cioè la preghiera Il solo fatto Che noi ci rivolgiamo A Dio Come dire Ci introduce Nella luce Dell'umiltà Fate noi Dei figli Che guardano Al padre E chiedono Il domandare Il domandare Il chiedere È un atteggiamento Di umiltà Quindi Già questo fatto Che Noi entriamo Nella luce Dell'umiltà Indebolisce Satana Che è Diciamo così L'essenza Della superbia E Lo allontana Lo Paralizza La preghiera Figiale Verso Dio Paralizza Il demonio Lo allontana Tanto più Poi Quando Preghiamo Il rosario Che Riacchiude Se stesso Tutte le opere Della redenzione Il rosario Il panorama Della redenzione Incominciando Con l'annunciazione Che termina Poi Con La glorificazione Di Gesù E di Maria Come re E regina Del cielo E della terra Quindi Il rosario In quanto Proprio fa Riverimento Proprio Agli autori Della redenzione Che è Cristo Con Maria Cooperatrice Indebolisce Satana Di qui L'importanza Per il rosario Nella tentazione L'importanza Il rosario Per la pace Nel mondo Queste Cioè Dovete capire Proprio Quello che La fede Ci svela Cioè Dietro le guerre C'è l'odio Dietro l'odio C'è Satana Allora La preghiera Indebolisce Indebolisce Proprio Satana Indebolendo Satana Diminuisce L'odio E diminuisce La guerra Allontanando Satana Cari amici Si fa largo La strada Verso la pace Quindi non è una Come dire Sono armi Diverse Ovviamente Dalle armi materiali Ma sono armi efficacissime Quelle che la Madonna Ci ha messo in mano La preghiera Che indemolisce Il demonio Perché Chiama La forza Di Dio Poi Perché la rinuncia Cari amici O se vogliamo Il digiuno Però mi piace più La parola Rinuncia Del digiuno Perché il digiuno Come dire È Un'espressione Che noi Riserviamo Al mangiare Al bere In realtà La Madonna Lo allarga Molto di più Difatti L'aeroporto Fino a dire Digiunate Ci porta A digiunare Nel senso Del rifiuto Di ciò che Satana ci offre Quindi Quindi La La parola Rinuncia Manifesta Tutta la sua Efficacia Proprio Quando Nella tentazione Satana Ti presenta Ciò che È appetibile Desiderabile Come era Come era La mela Di Eva Appetibile Desiderabile Per cui Tu lo vuoi A tutti i costi E che ti provoca La morte Per cui Madonna dice Satana mi distrugge Con quello che vi offre E quindi E quindi Noi Rinunciando all'odio Rinunciando Alla vendetta Rinunciando Come dire A tutto ciò che Rende l'uomo Aggressivo Cattivo Vendicativo Rinunciando Agli appetiti Del potere Agli appetiti Delle ricchezze Rinunciando A tutto questo Noi diventiamo Uomini di pace Diventiamo Sorgenti Di pace E Diventiamo Diventiamo Un mosaico Pietruzzi Un mosaico Il mosaico Dalla pace Cari amici Ecco dunque Che Ho voluto Motivarvi Proprio In questo Cioè Nel momento In cui Satana Miete le anime E vuol distruggere Il mondo Con l'odio E con la guerra Noi Usando Le armi Che Dio Ci ha messo In mano E cioè La preghiera Che invoca La sua forza La rinuncia Che disarma Satana Perché lui Ci offre La sua arma È di sedurci Ma noi Con la rinuncia Lo vinciamo Per cui Quando Satana Se Eva Quando Satana Lui Mostrò la mela Che poi la mela Ha un significato Simbolico Cioè Potevo dire Offrì il male Sotto forma di bene Se Satana Avesse Se Eva Avesse risposto Mangiala tu la mela Io non la mangio Avrebbe stravinto Ma è quello Che dovevo fare Noi cari amici Nella lotta Contra Satana E cioè Usando Noi che poi La guerra La fanno I potenti La fanno Poi Trascinano dietro Ma la gente Come ragione Il Papa La gente semplice Normale La guerra Non la vuole Insomma Allora noi Usiamo le armi Di Dio E così Costruiamo Quell'esercito Con il quale La Madonna E porterà Il mondo Alla pace Questa dunque Era la meditazione Quello faremo oggi Cioè I mezzi Della lotta Contro Satana Che Oggi In particolare Quando Satana Sceglie dalle catene Dobbiamo usare Proprio Nella nostra vita Quotidiana La preghiera E la rinuncia L'almanacco della fede Di Padre Livio L'almanacco della fede Nella ti Che Grazie a tutti.